ok Roberto questa è la seconda adesso facciamo un po' di 80 dell'album Una Giuna Raggiosa arrivederci a questa sera per una cosa di blocchi arrivederci a questa sera almeno spero di rivederti quello che hai detto l'ho già scordato mi piacerebbe anche tu arrivederci questa sera mi spiace tanto per ieri sera forse sono esagerato non farci se ancora puoi arrivederci arrivederci che dispiacere che dispiacere ah Flavida buon sabato eh ma certo ritornerò pure da voi non vi preoccupate finisce il virus ciao Flavida ciao Flavida eh guarda il video lo sapeva che ero io e se mi dice qui c'è Fabio Fabietto arrivederci 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 a questa sera verso le cinque verso le cinque passo da scuola esce il bambino oh son lì vicici ecco pure Maria Rita una canzone a recchiesa via ecco arriva da Maria Rita Prosperi eh la moglie di Pilera come sempre dell'unità alzi perché domani c'è una messa sì c'aveva un negozio delle camicie ma ormai ecco una ah ha messo un like perché? ho fatto una diretta vediamo un po' che c'è ah facciamo un po' di caroche di messa ah ma che c'è sto pure le canzoni dei bambini qui no? famite c'è rogar mi cazzo i nomadi qua i nomadi i biders i bg's o il seguente ho fatto c'è nascolato con Patrick Hernandez want to be alive o i want to be alive ci sarà Patrick Hernandez ci le loro mai ogni volta fa così non capisco perchè va sempre così estrae adesso estrae una cosa dei nomadi 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 prima che la trovo maria lì io con le canzoni italiane i nomadi nomadi facciamo una questa madonna quante tutte le canzoni allora così fresca e strana che dava al nostro gruppo qualcosa di più che suona sua moglie fa il coro giovanni come sempre ascolta stonato com'è che poi ma canzoni d'amore d'amore che fa noi stanchi ma si chiudi gli occhi forse tu ci sei anche da lì abbiamo abbiamo cantato piano un pezzo almeno che cantavi sui tu canzoni d'amore che fanno ancora bene al cuore diciamo quindi capito che l'applicazione si usa per far caloria questo è l'audio demo mi sono stufato questa è di Joe Wainsey se c'è tempo mi sembra che ci si persi un po' riscato almeno un po' di coglioni è un po' si bella giunta grazie grazie perché no mi non è davvero il gozo mi non è davvero il gozo mi non è davvero il gioco ma è ok mi non è davvero il gozo mi non è davvero il gozo No, 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 no. No, 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 no. Ecco, è rivenuta la linea. Però la connessione è bassa. Allora, mega raccolta. I bassi ci stanno qui, 160 gradi, mi raccomando, ah ecco le canzoni ricchieta, non lo sapevo. E vabbè, se vuoi la canzone, voglio, vabbè, proviamo un po', ti adoro se vuoi la canzone che conosco. Ti adoro, mio signor, è uguale al te, ti adoro, mio signor. Principe di pace, codo, sei giusti, diamo. Grazie. 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 Grazie a tutti. La strada è ancora là, un deserto mi sembrava la città, ma un bimbo che ne...